Sono Mauro, sono da Sardinia e questo è il mio secondo Erasmus e prima di venire qui è stato un tempo stressante per me e grazie al progetto ho trovato il mio equilibrio da partecipare le persone e la natura. E' stato un piacere per me di spendere i miei avanti insieme con le persone di altri paesi che mi aiutano a migliorare i miei sviluppi inglesi per qualcosa e spero di dare qualcosa anche ai altri. Grazie mille!